ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sullele king tv questo oggi abbiamo ben due bus ragazzi che derivano da due scambi fatti su scambio figurine sul sito di scambio figurine ragazzi se volete potete andare a vedere questo sito perché non lo sto pubblicizzando ma è molto semplice creare le liste soprattutto le liste mancanti e le liste delle doppie diciamo così e poi si può scambiare con altri utenti ho fatto questo scambio ci sono ci dovrebbero essere figurine di fifa 365 e figurine di champions league adesso controlliamo apriamo la prima bustina la prima busta ma qui c'è qualcosa che non ho capito che cos'è apriamo quest'altro involucro e come potete vedere qui ci sono figurine di fifa 365 che adesso andiamo ad aprire e a tirare fuori da questa pellicola album che mi mancano circa 50 figurine escluse queste ragazzi allora abbiamo foten e bernardo silva per il manchester city abbiamo le sultanze del manchester united ederson questa figurina dello shark 04 cimic del bayern monaco madanta e perin del olympic marsiglia lo spogliatoio dell'ajax la mascotte del club america qui abbiamo poi si questo è del calcio femminile e qui questa figurina qui è il mondiale per club ok apriamo l'altra qui ci dovrebbe essere anche che c'è anche slig se non sbaglio adesso controlliamo ragazzi se pare che una era mista e una era solo ok attenzione ragazzi qui ci perdiamo le figurine eccole qua allora si sono miste queste come potete vedere c'è champions e c'è e c'è fifa allora io direi da partire da fifa abbiamo alvarez e scruns dell'ajax poi club no corinzia cassio e walter ancora abbiamo un'altra del shark 04 haaland in questa figurina qui in movimento nel borussia dortmund e mandando e perin che ce l'avevamo già sull'altra lista allora poi abbiamo avang nagashima mikolenko tv canoko tv gankov abraham broswich galaxy diaz e gritsov per quanto riguarda la champions league quindi ragazzi non perdetevi i prossimi video i prossimi ce lo mi manca perché saranno relativi a queste figurine qui che abbiamo visto adesso io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti